Dopo il ritorno del Sesterzio di Traiano a Fiumicino, il Comitato Promotore prosegue nella sua opera di valorizzazione culturale della figura dell'imperatore romano con l'obiettivo di sviluppare eventi che ribadiscano la vocazione commerciale e turistica del territorio. A tal proposito sono state promosse due importanti petizioni popolari che hanno già raccolto un centinaio di firme. La prima iniziativa è dedicata all'intitolazione a Traiano della Farmacia Comunale di Via della Scafa. La seconda invece propone il gemellaggio di Fiumicino con Siviglia, luogo di nascita dell'imperatore. Il traguardo prefissato è raggiungere 2.000 sottoscrizioni da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione comunale. Il Comitato Promotore, si legge in una nota, farà della moneta il simbolo di un cambiamento storico radicale attraverso un percorso condiviso con associazioni di volontariato, strutture commerciali e imprenditori. Chi volesse aderire alle raccolte firme può contattare la nostra organizzazione e seguire le prossime iniziative in cantiere dedicate al Sesterzio.